Ciao bimbi, oggi andiamo a spasso, ovvero abbiamo tre note per la mano destra e tre note per la mano sinistra. Dunque, eccoci qua, le note sono Do, Re e Mi per la destra, Do, Si e La per la sinistra, come si tengono le dita sui tasti, in questo modo, quindi Do, Re e Mi col medio, mano sinistra, Do, Si e La. Vi ricordo sempre di tenere le mani sopra i tasti e non andare a spasso con le mani, ma andiamo a spasso con le note, ok? In questo modo. Allora, iniziamo la lettura del brano, tutti insieme, che è questa. Pronti, Via, Do, Do, Re, Re, Sinistra, Do, Do, Si, Si, Do, Re, Mi, Re, Do, Si, La, A. Do, Re, Mi, Re, Do, Re, Mi, Re, Do, Si, La, Si, 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 La, Si, Do, Re, Do, Re, Mi, Re, Do, Si, La, Si, La, Si, La, Si, Do, Re, Do, Re, Mi, Re, Do, Si, La, Si, La, Si, Do, Re, Do, Re, Mi, Re, Do, Si, La, Si, La, Si Allora, metto il foglietto in versione mignon qua sui tasti. Vediamo un po' se tiene e se voi lo vedete. Sì, abbastanza bene. Allora, attenzione. Parto, quindi mano destra fa questo. Do, do, re, re. Sinistra, do, do, si, si. Destra, do, re, mi, re. Sinistra, do, si, la, da due. Poi abbiamo, di nuovo destra, do, re, mi, re. Do, re, mi, re. Sinistra, do, si, la, si, do, da, qua, tro. E buon studio a casa. Ciao ciao!